Ah, è un cuore umano. Oddio. Renaud Laguna, non solo per chi guida. Laguna vi aspetta per una prova sabato 5, domenica 6, in tutte le concessionarie Renaud. Quanto è buono il carcio ghiotto, del carciofo melodia. Se festeggi in compagnia, te lo mangi in un sol botto. Già così è una lecornia, ma diventa ancora più ghiotto se lo scaldi perché sia il contorno del cosciotto. Peperlizia, il contorno che ti vizia. Tieni il riso. La pentola. Che pentola? Quella di risotto. L'ho messa in lavapiatti così com'era. Chissà come viene. Ma se abbiamo appena preso la migliore lavastoviglia della Rex, la Tecna. Insomma. Allora? Ah, splendida. Potremmo regalarne una agli sposi. La pentola? Ma no, la Tecna. Rex, fatti per essere il numero uno. Anna è un po' il simbolo della donna d'oggi. Anna è moda, cultura, attualità, salute, vita di coppia. Eh, ci vorrebbe per gli uomini un giornale così. Solo che come lo chiedono? Mario. Anna, tanto da dirti. Tanto da darti. Papà, questo è Giulio. Giulio? Eccomi qua. Da Findus i nuovi Fish and Croc. Filetti di buon pesce ricoperti di croccante patatine. I nuovi Fish and Croc Findus. Il buon pesce che fa croc. Con il vostro aiuto, l'Aism sta realizzando in Italia nuovi centri di accoglienza per i malati di sclerosi multipla. Per aiutarli a muoversi, lavorare, vivere. Perché di sclerosi multipla non si muore, ma senza assistenza non si vive. Aiutate l'Aism. Fino a 12 marzo potete farlo anche acquistando alla Coop. Informatevi. Prendi tutto quello che vuoi. Mi vuoi tutte cicce e brufoli. Mi basta un Kinder Bueno. È ricco di latte e in più è buono. Kinder Bueno, oggi ha una grande novità. Ti piace la mia t-shirt? È firmata da Roberto Baggio. La puoi vincere subito con Kinder Bueno. Di fronte a Citroën Xantia è facile perdere la testa. Citroën Xantia. È letta Auto Europa 1994 e offerta a soli 24 milioni 400 mila lire. Un prezzo con i piedi per terra. Per un'auto che fa girare la testa. Citroën Xantia. Auto Europa 1994 a 24 milioni 400 mila lire. Quanta è buona peperlizia. Cipolline sinfonia. Buone, ricche. Sempre sian fra i contorni la primizia. Se le scaldi poi in padella, sono pronte in un momento. La fettina di vitella si trasforma in un portento. Peperlizia. Il contorno che ti vizia. Ecco, signor Baudo. Grazie, eh. Ci voleva proprio, eh. E lei deve bere le vitamine perché ultimamente lei sta lavorando troppo. È vero, è vero, Ugo. Anche sabato prossimo, eh. Perché sabato tutti a casa. Tutti a casa. Sabato 20 e 40, Rai 1. E lei deve bere le vitamine perché ultimamente lei sta lavorando troppo.